Mer, che cazzo succede? Qualcosa ha spaventato qualcuno. Non so cosa, ma sembrano tutti nervosi. Ehi, Sel. Hai avuto problemi? No, gli esbirri non corrono un cazzo. Però adesso sparano un po' troppo. Tutti parlano dell'omicidio di Pop. La polizia è agitata. Molto. Non so che li ha preso. Forse c'è il contratto da rinnovare. Sta molto attenta, Sel. Perché tanto casino? Faith ha rubato una prova dalla scena di un crimine. E adesso tutti gli sbirri ce l'hanno con lei. È la prova che hai rubato? Sì, forse viene da un diario. Il resto è sparito. Riesco a leggere solo Icarus, forse. E al più alto. Icarus? Come quel tizio greco? Già. Suo padre gli costruì delle ali di piume e cera. Poi lui volò troppo vicino al sole. E... Addio Ali. Addio Icaro. Se qualcuno ne ha sentito parlare, Faith... Sì. So che ormai non è più un runner. Ma ha dei contatti. Non puoi evitarlo per sempre. Scommettiamo? Chi? Jack Knife. Drake ha individuato Jack Knife. È sui tetti del vecchio campo di addestramento, vicino al canale di scolo. Ma ci sono sbirri dappertutto. Puoi seguire i canali fino al quartiere di Antortown. Muoviti. Il capitato fin da due giorni, la polizia... ...dietro, mi ha fatto proprio il fatto... ...dietro, mi ha fatto proprio il fatto... ...dietro, mi ha fatto proprio il fatto... Ha fissato! Mentre dove sei? Stai giurando le eti, cittadine! Delicostero si ha fissato, corri! Stai giurando le eti! Abre il fuoco! Eci dai canali! Sei vicino a un accesso di manutenzione! Ti trovo un nuovo percorso! ... 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 Le piantine dei canali. Dovrebbe esserci un'uscita dall'altra parte, molto in alto. Muoviti e non illuserti che gli spirri non ti seguano. Ehi, sto ricevendo qualcosa. Merda, avevano previsto la tua morte. Hanno mandato una squadra di CP davanti a te. Ehi, sto ricevendo. Elimina i cecchini o evitali. Basta che attraversi quella zona. Merda! Sì! Sono entrati, vattene feita Ecco l'accetto per Rest of Down, la tua uscita, Jack Knight non è lontano Ma non è lontano, non è lontano Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Merda. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì.